era una partita difficile ed era prevedibile con pochi spazi concessi primo tempo nel quale comunque il pontini ha sbagliato poco in fase difensiva fase offensiva praticamente non avevamo grossi grattacati poi abbiamo deciso di complicarci la vita una costruzione abbiamo sbagliato un passaggio abbiamo preso questo gol di infilata alla versa e lì è diventata una partita molto 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 complicata e da partite del genere se ne esce solo se se hai un un'idea di calcio e di gruppo di livello perché comunque è un episodio che avrebbe abbattuto magari in questo periodo del campionato un altro qualsiasi squadra invece la squadra è tornata ancora più coese in campo al secondo tempo con le idee ancora più chiare con un sviluppo uno sviluppo di canovaccio di partita che era quello giusto abbiamo cercato di operare con pazienza e con continuità un lavoro ai fianchi cercando di occupare quegli spazi che di sfruttare quegli spazi che ci venivano concessi al loro sistema di gioco questo ha premiato prima abbiamo colpito il palo con riccio poi ci sono andati vicini con goretta fatto mirare col portiere e poi diciamo quando abbiamo stappato la partita credo che da lì in poi insomma che sia stato poco da da obiettare vittoria di livello anche se comunque secondo tempo più convincente nel primo non siamo riusciti a dare ritmo c'erano pochi spazi ci siamo un po chiusi nell'imbuto che loro hanno creato secondo tempo invece siamo stati sempre lucidi siamo stati sempre operosi sempre laboriosi abbiamo portato a casa una vittoria bella perché era veramente di collettivo di gruppo di mentalità la squadra che ha dimostrato grande fame è importante l'apporto di entrato che comunque siamo riusciti a cambiare atteggiamento siamo riusciti a cambiare pelle anche cambiando alcune qualità specifiche in alcuni ruoli si è visto perché la squadra è stata più efficace e alla fine abbiamo portato a casa una vittoria credo meritatissima che sicuramente non era facile per come si era messa la partita riuscire a portarla in porto insomma quindi ragazzi sono stati eccellenti proprio per la calma e la lucidità con la quale insomma hanno reagito a una difficoltà una delle tante difficoltà di questa stagione che insomma comunque siamo le ultime battute in certe partite sono faticose da poter da poter vincere da dover vincere i ragazzi sono stati bravissimi per questo